Musica Primo appuntamento per Ivrea Estate nella suggestiva cornice del castello, con l'apparanza del GECO e nel concerto 100% Tarantella. Uno spettacolo carico di energia vitale, corporea, dinamica, in cui musicisti, cantanti, danzatrici e maschere hanno dato vita ad un mix esplosivo di musiche tradizionali del sud. Momenti di pura festa popolare, sceneggiata napoletana e commedia dell'arte, splendide voci femminili, percussioni ostinate e dirompenti che guidano il pubblico ad abbandonarsi agli incalzanti e saltellanti ritmi del sud, rivisti e conditi dall'irrefrenabile fervore creativo degli artisti di paranza. Un concerto insomma da ballare e da vivere. Accompagnati da strumenti popolari e originali, i musicisti del gruppo guidano il pubblico ad abbandonarsi alla piacevole euforia dei ritmi veloci e incalzanti delle più belle Tarantelle tradizionali, alternate a canti originali, in un affascinante viaggio tra Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Dal Salento, Tacco d'Italia, terra di passaggio e di continui scambi fra Oriente e Occidente, la vorticosa è scatenata pizzica pizzica salentina, antica danza terapeutica utilizzata per la cura dei tarantati, indiavolate coinvolgenti tarantelle siciliane, sensuali e veloci tarantelle calabrosi, danze di duello e corteggiamento, ed ancora estatiche ed ipnotiche tammuriate napoletane, legate ad antichissime ritualità di origine greco-romana, condite con piccanti arrangiamenti.